Continua la marcia di avvicinamento della Virtus Franca Villa al primo impegno ufficiale della stagione. I biancazzurri saranno impegnati domenica prossima contro il Taranto nel match valevole per la Coppa Italia di categoria. Sarà il primo vero test anche per Mr. Taurino che non vede l'ora di provare i suoi nuovi ragazzi. Quello con il Taranto però sarà soltanto il preludio alla prima di campionato prevista sette giorni dopo in quel di Catanzaro. Intanto dal mercato arrivano anche buone notizie. La scelta è praticamente fatta. Il club di via Quinto Egnio infatti ha definito anche gli ultimi dettagli per il tesseramento di Elimelec Egnan. Sarà lui a giocarsi una maglia da titolare sulla sinistra con ingrosso. Vent'anni, origini ganesi, ma nato in Italia, Giuliano in Campania è rimasto svincolato dopo l'addio al professionismo del Chievo. Egnan ha tutte le carte in regola per essere definito un vero e proprio colpo di mercato per la Virtus Franca Villa. Buone notizie arrivano anche dalla città dove proseguono a buon ritmo i lavori del nuovo Giovanni Paolo II. Lavoreranno anche a ferragosto gli operai per far sì che i lavori possano rispettare la data di consegna prefissata. Intanto è praticamente pronta la nuova curva che potrà contenere fino a 1000 spettatori.